Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video, allora quest'oggi parliamo di eventi di SimDrivers iniziamo il nuovo anno con due grossi campionati, uno è il sequel del campionato BTCC che si è concluso il 15 di dicembre scorso che ha avuto un successo quasi inaspettato devo dire la verità un evento veramente che ha fatto parlare di sé che ci è stato richiesto a gran voce di riproporre e infatti arriverà a febbraio inizierà con la famosa prequalifica di 48 ore dove adesso in questo momento ci sono 33 piloti ma sono sicuro che ne arriveranno altri che cercheranno di lottare per passare tra i primi 24 con una peculiarità in modo tale che tutti spingano e che non si nascondano dietro strategie sarà con i tempi al buio quindi i riferimenti saranno veramente pochissimi soltanto nelle sessioni in cui i piloti entreranno vedranno più o meno quali sono i tempi che si fanno però il fatto di scalare la classifica non avendo i tempi di riferimento diventa veramente complicato e questo spinge i piloti a dare tutto quello che hanno io vi invito caldamente ragazzi a tentare a tentare di entrare in questi 24 perché è un campionato che è stato arricchito con delle novità ci sarà sempre la live con Aulo Gacciatore il supporto tecnico di Tommaso Contu insomma ragazzi è un evento veramente che lo proponiamo con il cuore e come appassionati di Simracing quindi avete qui sotto tutte le informazioni utili il nostro link Discord per venire a raggiungerci anche se non volete partecipare ragazzi a noi ci fa sempre piacere di accogliervi nel nostro Discord così possiamo scambiare così ci possiamo conoscere fare amicizia però ragazzi veramente venite a iscrivervi perché se siete appassionati di simulazione questo è veramente uno degli eventi che mi sento di consigliare BTC Mission Impossible Season 2 adesso ragazzi però vorrei anche segnalarvi un altro campionato che per me è anche molto importante questa volta è su iRacing ci sono già 29 iscritti ragazzi numero eccezionale per iRacing per noi il primo campionato ufficiale si chiama Adrenaline Rush 2024 c'è una forma particolare di questo campionato sempre qua trovate il link in descrizione per entrare sul Discord per chi si volesse cimentare ci sono anche dei nomi illustri come Giorgio Zegretti Renzo Livieri, Alessandro Mantini ce ne sono tanti ragazzi quindi è veramente una bellissima piazza dove potersi anche confrontare come Simracer su iRacing ma in realtà il video non lo faccio solo per fare la promo dei due campionati ma perché ci tengo particolarmente a sottolineare che Simdrivers partecipa alla campagna di sensibilizzazione di Race to Donate io voglio ringraziare innanzitutto Emanuele Impuntato che mi ha segnalato questa iniziativa che in realtà io conoscevo già al quale avevo anche partecipato a un commento di un campionato l'iniziativa è Race to Donate voglio ringraziare ancora una persona in particolare Alessandro Marchetti che ha avuto la possibilità di conoscere Primis tramite un video di Nasca che ne ha parlato così rapidamente in un suo video ma anche personalmente ho potuto chiamarlo ci siamo sentiti e gli ho dato tutta la disponibilità come comunità per poter sensibilizzare le persone a questo messaggio che è più veloci della malattia Race to Donate è un'associazione lo leggo così vi leggo due righe ragazzi Race to Donate è un'associazione di promozioni sociale ideata e finalizzata all'opera di sensibilizzazione e corrette informazioni della popolazione in merito alla procedura della donazione del minollo osseo con l'intento di estendere la cultura della donazione come mission della società civile che ha iniziato a operare tramite la visibilità e popolarità del campionato italiano Gran Turismo non entro nello specifico perché avremo modo di parlarne durante questo campionato Alessandro Marchetti mi ha detto che cercherà di essere presente anche in live per testimoniare Race to Donate e soprattutto la sua storia ragazzi se non la conoscete vi invito a seguire le live perché di persona la spiegherà comunque ragazzi veramente con la tipizzazione una semplice donazione di sangue si può realmente salvare delle vite quindi se avete dai 18 ai 35 anni potete direttamente andare a fare la tipizzazione e vedere se magari rientra che siete compatibili con qualcuno che ha bisogno di potete salvare la vita avremo modo quindi di parlarne tantissimo di questa iniziativa ragazzi sono veramente molto contento di poter dare il mio piccolissimo contributo e spero che si possa fare anche il passaparola quindi venite ad ascoltare anche di cosa si tratta di come funziona di come si possono salvare delle vite ragazzi veramente ci tengo tantissimo a passare questo messaggio e oltretutto noi cercheremo di farvi divertire come al solito ovviamente le iscrizioni sono ancora aperte ragazzi fino a giovedì stesso della gara vi potete iscrivere avete tutti i dettagli sul discord di come funziona è una formula un po' particolare quindi ragazzi non vi perdete questi appuntamenti di campionati questo giovedì inizia l'adrenaline rush 2024 è il 10 febbraio quindi iscrizioni ancora aperte il campionato btcc mission impossible 2 grazie ragazzi vi aspetto numerosissimi da fabbris è tutto un abbraccio ciao